se ragazzi se dalle cazzo taglie crotone crotto udinese crotone 0 a 0 ragazzi veramente una partita dove il aspettate che mi è giusto qui ragazzi il crotone ha giocato una bellissima partita ragazzi una partita veramente bella difensivamente perché alla fine in attacco abbiamo fatto praticamente un tiro in porta l'udinese ha spinto ha spinto molto con pussetto poi quando è entrato dell'ufeu con nesteros che comunque hanno con depol hanno avuto comunque delle occasioni e il crotone è stato bravo a non concedere troppo anche se in alcune occasioni mi sono cagato sotto soprattutto nel secondo tempo quando c'è stato un tiro che la presa comunque più volte corta sono va anche contento che corda so già abbia fatto una buona partita sapete che io comunque quando c'è da criticare lo critico ma oggi devo fare gli elogia e corda so perché veramente ci ha salvato è una buona difesa con cuomo ragazzi gole mic e mi è piaciuta molto mi è piaciuta molto la squadra come si è posta difensivamente tec forse secondo me hanno pensato più a difendersi vedendo comunque che l'avversario l'avversario comunque aveva qualità in attacco a qualità comunque anche a centrocampo e quindi secondo me hanno pensato più a difendersi e ripartire in contropiede magari e provare a segnare ma non mi dispiace se non abbiamo non abbiamo comunque segnato cioè nel senso per come si è messa la partita il pareggio me lo tengo strettissimo perché comunque il crotone ha fatto una buona partita l'udinese pure perché ha giocato praticamente solo l'udinese l'udinese in atta ha giocato in atta a una porta si è giocata a una porta però c'è da dire comunque che il crotone ha avuto due ripartenze una correzza che poteva gestire meglio il pallone poteva girarsi meglio che poi li ha fatto fallo però ragazzi veramente crotone che comunque sia con la con lo spezia e sia oggi comunque porta a casa quattro punti sperando la prossima di portare tre punti ragazzi siamo sulla strada giusta perché vedo un crotone comunque sempre in crescita sta crescendo sia difensivamente che è un peccato oggi non aver concreto ha provato a fare qualche buona partita difensiva ragazzi che veramente cioè non me lo sarei aspettato perché io come ho visto la partita all'inizio visto che spingeva molto l'udinese poi gli è stato annullato un gol nel primo tempo uno nel secondo perché c'erano tutti e due stavano in fuorigioco giustamente poi lì si è lamentato anche d'orofeo chiedendo di non annullare il gol perché dice no no io non sto in fuorigioco no 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 non sto in fuorigioco no come no non sta in fuorigioco ma detto questo ragazzi sono contento anche che ritroviamo rivier titolare che comunque porta qualità rivier peccato non abbia segnato però ragazzi sempre buono vedere rivier titolare perché comunque affiancato a simi è buono io proverei la coppia di attacco messias 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 rivier che secondo me potrebbe essere un'ottima coppia di attacco ragazzi che dire speriamo di continuare così con la sampetora dobbiamo entrare veramente in campo con agguerriti e come abbiamo fatto con lo spezia oggi c'era più da difendersi vista la qualità comunque dell'udinese ma ci sta ragazzi queste parti dove tu devi provare a difenderti per portare a casa un punto perché come ho detto io anche nel nelle precedenti live affrontiamo queste squadre io avevo pronosticato che in queste partite avremmo fatto un punto e il punto è arrivato con la squadra secondo me ha adesso che è il miglior è in miglior forma e ci sono i giocatori che stanno in forma quali di ordine se veniva se non erro da tre vittorie e l'udinese veniva da tre vittorie i giocatori sono in forma sono passando un ottimo stato di forma l'udinese e quindi ci sta andare ad udine e prendersi un punto ragazzi giocando comunque difensivamente bene rispetto alle altre parti dove difensivamente abbiamo fatto schifo detto questo ok vi auguro una buona serata sempre forza crotone ragazzi oggi sono soddisfattissimo con continuate così ragazzi che siamo sulla strada giusta e c'è da dire non siamo più ultimi siamo terzo ultimi perché torino siamo a pari punti con torino e genoa e ragazzi genoa deve giocare con milan e il torino con a roma vedete che non fa cazzate chicchi vedete che non fa cazzate vedete non fa cazzate mamma mia ragazzi quanto godo quanto sto godendo ciao